Grazie a tutti i miei amici, ben ritrovati per una nuova puntata del Ciclo di Carichesi Andiamo nella vita nella Divina Volontà che è giunto alla sedicesima puntata. Stiamo con l'aiuto degli iscritti di Luisa cercando di approfondire il mistero della vita nella Divina Volontà alla luce di quello che ha vissuto il nostro progenitore, quindi soprattutto paragonando quello che ci è stato detto da Nostro Signore sul prima e sul poi della vita dell'uomo, quindi cercando di andarci a confrontare con il meraviglioso progetto che Dio aveva fatto sull'essere umano e su ogni essere umano, che purtroppo ha dovuto poi essere in qualche modo resettato perché le cose, come vedremo anche questa sera, non andarono come dovettero andare. Vedremo anche questa sera, leggendo quantomeno un paio di brani, sempre dal 23esimo volume che ci accompagnerà ancora per diverso tempo, il 23esimo volume è molto ricco di episodi e di racconti che rimandano direttamente alla vicenda di Adamo, quindi io non prolungherei troppo i preamboli e passerei subito alla lettura che poi commenteremo insieme del primo testo di questa sera che è appunto dal 23esimo volume del Libro di Cielo, 2 novembre 1927. Dice Gesù, figlia mia, l'umana volontà formò la notte all'umana famiglia nelle anime e se fanno opere buone, anche importanti, siccome il bene per se stesso è luce, sprigionano da loro stesse tante piccole luci, le quali hanno virtù di non lasciare loro e quelli che li circondano all'oscuro, ma non di fare cambiare la notte in giorno. Quelle luci, sebbene piccole, gli indicano il passo, gli fanno vedere i pericoli e attirano verso di lui la mia paterna bontà, che vede che se ne serve nella notte della sua volontà umana per formare almeno piccole luci per trovare il passo per la via della salvezza. Fu proprio questo che attirò tutta la nostra tenerezza e la nostra bontà verso Adamo. lui aveva compreso che cosa significa vivere nel nostro volere divino e come correvano i suoi piccoli atti, come i più grandi, dentro la nostra virtù creatrice ed erano investiti dal sole dell'eterno Fiat, che essendo sole aveva la virtù di poter formare quanti soli voleva. Onde. Vedendosi svuotato da questa forza creatrice non potete formare più soli, quindi Poveretto si sforzava quanto più poteva di formare piccole luci. E vedendo la gran differenza fra il suo stato primiero e quello dopo la colpa sentiva tale dolore che si sentiva morire in ogni atto. L'ente supremo si sentiva commosso e ammirava l'industria del povero Adamo che non potendo formare più soli si industriava di formare così atti piccole luci in virtù e in virtù di ciò gli mantenne la promessa del futuro Messia. Non sarà troppo lungo il commento di questo brano, presumo, a meno che lo Spirito Santo non si inventi qualcosa, però è un brano a mio avviso molto importante, molto illuminante ed anche molto formativo perché ci sono dei termini qui che sono dei termini chiave per comprendere un po' la vita nella divina volontà, per esempio il sole e i soli che sono gli atti compiuti nella divina volontà. Allora cosa dice Gesù? Una cosa fondamentale che valeva per Adamo e vale anche ora. Allora anche dopo il peccato, quindi anche il peccatore tra l'altro, si possono fare delle cose buone, d'accordo? Non è che ogni minima cosa che noi facciamo è sempre dovunque comunque peccato, no. Anzi, quando uno sta anche in grazia santificante, non soltanto insegna la Chiesa fa delle opere buone, ma fa delle opere meritorie, cioè il libero arbitrio noi sappiamo rimane sempre intanto. Solo che come insegna San Tommaso d'Aquino, il bene fatto quando non si è in grazia di Dio e quindi non si è mossi dalla carità, non merita dal Signore ricompense sopranaturali, ma merita comunque una ricompensa. Quanto meno un bene temporale. Stare tranquilli che io ho sempre detto la giustizia di Dio funziona, mentre è proprio rigidissima nel ricompensare il bene, è invece flessibile nel retribuire il male, perché il male molte volte nella giustizia di Dio si lascia temperare o mitigare, a volte addirittura piegare, dalle esigenze della misericordia, soprattutto per le pressioni, ecco, delle intercessioni del figlio di Dio che intercede per noi e della Madonna, che veramente non tiene tante, ma per quanto riguarda la giustizia, nel retribuire il bene, Dio è inesorabile, cioè sta tranquillo che anche un tanto così di bene fatto, Dio te lo ricompenserà. non ne avere nessun dubbio, d'accordo? Fosse anche un bene proprio piccolo, sciocco, apparentemente insignificante, fosse anche un sorriso, che ne so, fosse anche 5 centesimi dati a un poveretto, sta tranquillo che il Signore te li ripaga. Non ci mette proprio nessun dubbio. Ora però, un'opera fatta insegnare a Chiesa nella grazia santificante, e il Signore la ricompensa alla grande in Paradiso, d'accordo? Perché anche lì, cioè, i gradi di gloria, questo, cioè, attraverso la divina misericordia c'è l'accesso al Paradiso, perché ricordiamo sempre che se c'è fosse la divina misericordia, potremmo fare pure tutti quanti le opere, tutti quanti i santi messi insieme, ma in Paradiso non ci andrebbe nessuno, eh? Quindi questo ricordiamolo sempre. Arrivati però in Paradiso, è chiaro che i gradi di gloria sono proporzionati ai meriti, insegna sempre la Chiesa, questo qui non lo dico io, eh? Cioè, sempre l'insegnamento della Chiesa. Quindi che significa? Significa che se uno ha fatto un maggior numero di opere buone in grazia, oppure opere qualitativamente grandi in grazia, riceverà un maggior grado di gloria in Paradiso. Ora però, per quanto grande possa essere quest'opera, anche fatta in grazia, è comunque un'opera umana. Quindi, per carità, dice Gesù, il bene è luce, quindi anche un bene piccolo dà luogo a piccole luci. Ecco, noi dobbiamo immaginare che cosa è successo, qual è la condizione ontologica dell'uomo decaduto. Noi ci troviamo nella notte, nelle tenebre. Immaginiamo chi ha partecipato, per esempio, e chi non l'avesse mai fatto, raccomando vivissimamente di farlo. Una veglia di Pasqua, non credo che tra gli ascoltatori di queste catechesi ci sia chi non ha mai partecipato a una veglia di Pasqua, insomma, però bisogna farlo. La veglia di Pasqua si apre proprio con il buio, cioè la liturgia del lucernario, no? Che è squarciato dalla luce di Cristo risorto. E poi sta accendendo tutte le nostre candele, che si entra in chiesa soltanto alla luce di Cristo risorto e delle candele. Bellissima questa cosa qui, no? Bellissima. Bellissima. Perché la luce del cielo pasquale con le candele, diciamo, non è che illumina la chiesa, però tu cominci a vedere dove metti i piedi, insomma, più o meno di quelli che ti stanno vicino distingui la fisionomia. Bellissimo. Ecco, l'opera della redenzione ci concede questo, che è già tanto, non stiamo a buio pesto, d'accordo? Stiamo con le nostre candelette, delle nostre buone opere, che ci permettono di farci vedere qualcosa, però. Agire nella divina volontà, come agiva Adamo prima del peccato originale, e come si spera, possiamo imparare piano piano ad agire anche noi, non è accendere una piccola candela, ma è uscire alla luce del sole. Non c'è niente di paragonabile alla luce del sole, capite? Per quanto oggi noi abbiamo la luce artificiale, abbiamo i neon, i led, che caspita, ne sono le lampade, alogene, che mi hanno detto che vanno fuori leggi, che non le fanno più, insomma, ce ne abbiamo tutti i colori, insomma. Possiamo creare anche dei giochi di luce fantastici, ma tanto la luce del sole è sempre la luce del sole. Quando c'è una giornata di sole splendente a mezzogiorno, la luce è quella, d'accordo? Il resto sono chiacchiere, d'accordo? Ecco, e c'è un abisso tra la luce solare e la luce artificiale. Ecco, la vita nella divina volontà e gli atti nella divina volontà producono questo effetto. Allora, attenzione, cosa vuol dire che producono dei piccoli soli? Di piccoli soli significa, è un'immagine che dobbiamo un attimo, come dire, contemplare, no? Il sole illumina. Allora, un atto che faccio nella divina volontà, chi illumina? Illumina innanzitutto me. Illumina innanzitutto me. Cioè, ogni atto nella divina volontà, c'ho fatto una predica domenica scorsa, che c'era ad esempio del cieco, cercando di far riflettere. Che luce ti porta a avvicinarti al Signore? Cos'è che noi non vediamo e che dobbiamo vedere meglio? Primo Dio stesso, d'accordo? Sei sicuro che tu Dio lo vedi bene, che lo conosci bene, che hai un'idea adeguata di Lui, dicevo durante la predica, no? Un'idea corretta e ha quindi un rapporto corretto con Lui. Ci sono molte idee falsate di Dio, ci sono molte idee sballate di Dio, capite? Moltissime. Allora, è chiaro che un atto nella divina volontà, producendo dentro di te una somiglianza con ciò che Dio è, ti investe della soluzione, forza. Quindi certamente produrrà in te, anche se tu non te l'accorgi a livello sensibile nell'atto stesso in cui lo fai, una più grande e più autentica conoscenza, non semplicemente intellettuale, ma la conoscenza saporosa, quindi quella che ti porta poi all'affetto e all'amore di Lui, sicuro. Un altro grande sole è la conoscenza di noi. Perché guardate che la conoscenza di Dio è fondamentale, ma è molto importante anche la conoscenza di noi stessi. Cioè, saperci vedere con gli occhi, per quanto possibile, perché se ci prestasse proprio i suoi sarebbe un problema, di Dio. Dio come ci vede? Ce lo dice in tutti questi scritti in continuazione. Dio ci vede come la statua bellissima, ci vede come la luce dei suoi occhi, ci vede come il capolavoro più bello che abbia fatto. E guardate che questa cosa qui non vale solo per Adamo, non vale solo per Luisa Piccarreta, non vale solo, vale per ogni anima. Nessuno escluso. Però Dio vede anche le devastazioni operate in noi dall'umana volontà, le vede tutte quante. Quindi Lui vede sia la bellezza dell'immagine, sia tutto quanto l'imbrattamento. Anche qui quando vogliamo meditare un po', e qui è una meditazione che è anche un pochino dolorosa, perché gli imbrattatori siamo noi. Forse ho usato altre volte questo, ma immaginiamo un bellissimo quadro che uno prende e ci butta sopra un barattolo di vernice, oppure piglia un coltello, lo sfreggia, non lo so che cosa combina. Immaginiamo se trattassero così la gioconda di Leonardo Tavici, uno se lo portano in galera, ma noi dovremmo tutti quanti andare carcerati all'ergastolo a vita, perché siamo noi a distruggere in noi o fuori di noi i capolavori dell'altissimo, siamo proprio laureati onoris causa tutti gli esseri umani, pure il più grosso e ignorante che esiste. Questa è laura onoris causa, ce erano tutti quanti. E questo Dio lo vede. Allora la conoscenza bella di noi stessi è quella che tiene in equilibrio. Io devo avere un'immagine innanzitutto positiva di me stesso, ma non positiva come quella che c'è nei superbi che te pensi di essere chissà chi e che solo tu sei bravo e gli altri capiscono niente, che solo tu sei intelligente e gli altri tutti stupidi eccetera eccetera. No, io devo capire che la mia identità, la mia persona, la mia anima, è stata pensata, creata, voluta, amata, ab eterno dall'altissimo. Questa è la prima cosa, pensare questa cosa, come dire, toglie ogni possibile forma di brutto ripiegamento su se stesso, ricerca continua che tanti esseri umani ci hanno, dell'affetto, delle briciole, dell'amore da parte degli altri, della stima, della considerazione, oppure io sono depresso perché non mi sefira nessuno, non mi vogliono bene, non mi capiscono, tutte queste cose qui, cioè l'asse della nostra identità si ritrova nel vedere me stesso con gli occhi dell'altissimo come lui mi vede. E questo non è solo un processo intellettuale, è un processo che poi diventa carne viva ed esperienza reale, io dico sempre, nella preghiera profonda. Cioè Dio non è più un estraneo, perché queste cose, se tu gli hai la possibilità, se tu te ce metti a sto sole, vedrai poi come da bronzi, te lo fa senti. Ecco, gli atti sotto questo punto di vista che noi possiamo già da presto iniziare a fare, come dire, sono degli accelerometri, cioè favoriscono questa cosa qui. Io penso, non voglio prestare insomma le esperienze personali al prossimo, questo è sempre sbagliato, ma insomma mi baso anche su cose che ho visto, su persone che ho conosciuto, cioè quando si entra nel mondo della divina volontà, una delle prime cose che cambia passo, che salta di qualità è la preghiera, per forza, perché comincia ad essere una buona volta una preghiera personale, una relazione profonda, intima, con Dio, che poche persone hanno. Altro che si accende il sole, si accende alla grande il sole. Dentro questa cosa, che succede? Tu ti senti investito di un amore immenso, ma al tempo stesso con la luce tu vedi veramente quanto sei piccolo, quanto sei, Papa Francesco direbbe peccatore, ma lo vedi non con l'angoscia, capito? Nel senso che dici mamma mia, guarda che disastro totale che so che ti viene voglia di prendere la rivoltella e date una botta sulla tempia, perché insomma quando entriamo bene dentro noi stessi, ricordiamo anche le parole che disse Gesù a Santa Faustina, se conoscessi dal profondo l'abisso della tua misera moriresti di dolore, però Gesù non ti fa, non permette che accade questa, perché questa conoscenza, questa forma di conoscenza di noi è necessaria, non soltanto per vivere nella divina volontà, ma anche per camminare verso la santità, come dire, chiamiamola comune, chiamiamola ordinaria, anche se la santità è sempre ordinaria e straordinaria, quindi comunque. Però questo deve essere fatto anche questo, si vede subito quando è un'operazione divina e quando invece è un'operazione umana, maldestra tra l'altro, artificiosa, mal fatta, tu vedi la persona che comincia a agitarsi, a fassare di cento miliardi di scrupoli, i sensi di colpa, il vedere male anche dove non ci sta, il pensare sterilmente insomma al passato, e rievocare il passato in maniera malata, d'accordo, perché il passato è inutile che tu lo rievochi, noi sul passato non abbiamo nessun potere, se non quello di trarre insegnamenti di vita e occasioni di umiliarci davanti a Dio, questo è l'unico potere santo e saggio che noi possiamo avere sul resto, no, non occorre, non serve, noi abbiamo potere sul presente e sul futuro, quindi questi soli, questo duplice diciamo così gioco dialettico tra il sole che illumina una più profonda e vera conoscenza di Dio e al tempo stesso la più profonda e vera conoscenza di te stesso, determina un salto di qualità proprio nella vita e la persona questo qui lo vive, non è che c'è bisogno che qualcuno gli faccia una testa così, lo vivi. Si vede anche che aumenta anche la capacità di conoscenza e di comprensione anche delle cose del mondo, comincia a venire un pochino di discernimento insomma non si fanno più troppe stupidaggini, troppe scelte precipitose, avventate che molte volte dipendono dal fatto che noi non abbiamo molto chiaro, cioè magari cerchiamo di barcamenarci di fare qualcosa di bene ma non capiamo manco bene dove sta, insomma a un certo punto qualcosa bisogna farla, la facciamo e magari pensavamo di aver fatto bene e abbiamo fatto male capite? Questo perché camminiamo sempre ordinariamente perché grazie a Dio è già troppo, con questa candeletta che sta con questa candeletta accesa vedi a 30 cm, vedi a 40 cm ma non vedi più lontano, ma se si accende il sole tu vedi tutto, vedi. Quindi non so se se riusciamo un attimo a comprendere queste cose, no? Allora e pensiamo a Damo, aveva conosciuto gli atti di questo modo e poi si ritrova a vedere che gli atti che compie sono così, cioè non producono più quello che producevano prima a noi si spera che ci capiti il processo inverso, cioè che possiamo dire siamo passati dalle stalle alle stelle cioè dice, mamma mia, come lo so accampato fino a oggi, ma guarda come si campa meglio ma quel poraccio da Damo è caduto e passò dalle stelle alle stelle, è passato da come siamo cavati in basso e questo, cioè immaginate questo soporaccio, no? cioè, sapendo che ci si poteva fare più niente, non funziona più, non è più come prima è un guaio, grosso e però vedete anche come reagisce Dio dinanzi a questo, no? dice, sentiva tale dolore a Damo che si sentiva morire a ogni atto, ma l'ente supremo si sentiva commosso e ammirava l'industria del povero a Damo che non potendo formare più sole si industriava di formare cosiddetti piccoli luci quindi in tante situazioni che dobbiamo fare, signore mio cioè in attesa che non arrivino tempi migliori di questo è quello che ti posso dare e il signore lo apprezza in virtù di ciò gli mantiene la promessa del futuro Messia quindi il signore apprezza anche quello che con cuore buono esce dalla nostra pochezza perché lui lo sa che siamo poca cosa siamo noi che lo sappiamo poco bene, passiamo al secondo brano ecco, già ho fatto una promessa del marinaio che voleva essere breve ma siamo quasi arrivati a metà del tempo a disposizione il secondo brano è un pochino più lungo è sempre del 23esimo volume stavolta il 10 novembre 1927 figlia, con che ordine e armonia fu creato l'uomo? Adamo fu creato da noi re di tutta la creazione e come re aveva la supremazia su tutte le cose e se non avesse respinto il nostro fiat possedendo un'unità di esso in tutta la sua vita attenzione avrebbe riempito degli atti suoi tutte le cose create come re padrone aveva il diritto a che ciascuna cosa creata subisse la sua azione e fosse investita della sua luce ancora, ascoltate perché ogni sua azione era un sole uno più bello dell'altro sicché lui doveva formare la corona a tutta la creazione non sarebbe stato vero re se non avesse conosciuto tutti i suoi domini e non avesse avuto il diritto di mettere gli atti suoi in tutte le cose da noi create succedeva come quando un tale è padrone di un terreno che come padrone ha il diritto di passeggiare dentro di piantare fiori piante, alberi insomma tutto ciò che vuole tale era Adamo con la potenza del nostro fiat divino faceva ciò che voleva si bilocava in tutte le cose create se parlava, se amava se adorava, operava la sua voce risuonava in tutta la creazione questa era investita dall'amore dell'amore e dell'adorazione e dell'opera di lui quindi la divinità sentiva l'amore l'adorazione e l'opera del suo primo figlio in tutte le opere sue attenzione a ricordare questi passaggi poi intanto li riprenderemo li commenteremo ora tutto l'operato di Adamo sarebbe rimasto in tutta la creazione come il primo modello per tutti i suoi discendenti i quali avrebbero modellato tutti i loro atti ai riflessi della luce degli atti suoi che come primo padre avrebbe dato in realtà a tutti i suoi posteri i quali non solo avrebbero avuto il loro modello ma anche il possesso dei suoi stessi atti quale sarebbe stata la gloria nostra e sua vedere l'operato del nostro caro figlio del nostro prezioso tesoro partorito dal nostro amore fuso con le opere nostre quale felicità per lui e per noi ora se questo fu lo scopo nostro per il quale fu creata tutta la creazione e il nostro caro gioiello qual è l'uomo non è giusto adonta che Adamo cominciò a non finire anzi finire nel dolore e nella confusione perché respinse il nostro volere divino che gli serviva come atto primo e lo faceva operare nelle opere del suo creatore non è giusto che effettuiamo questo nostro scopo nei suoi discendenti ecco perché dichiamo in mezzo alle opere mie in tutta la creazione per formare il modello in cui devono modellarsi tutte le altre creature per ritornare nel mio Fiat tu devi sapere che il primo modello nella creazione fu l'ente supremo su cui l'uomo doveva modellare tutti i suoi atti col suo creatore attenzione eh il secondo modello doveva essere Adamo su cui dovevano modellarsi tutti i suoi discendenti ma siccome si sottrasse la mia volontà mancando in lui l'unità di essa gli mancarono i colori i pennelli e la materia prima per poter fare i modelli a somiglianza del suo creatore poveretto come poteva formare i fornelli i modelli con la stessa forma divina se non stava più in possesso di quella volontà che gli somministrava abilità e tutto lo corrente che ci voleva per poter formare gli stessi modelli di Dio respingendo il mio Fiat divino respinse la potenza che tutto può fare e tutto sa fare successe da Adamo come succederebbe a te se non avessi né carta né pena né inchiosto per scrivere se ti mancasse ciò non saresti capace di divergare una sola parola così lui non fu più capace di formare i modelli sullo stampo divino il terzo modello lo deve fare chi deve far ritornare il regno della mia volontà perciò i tuoi doveri sono grandi sul modello dei tuoi atti saranno modellati tutti quelli degli altri e perciò in tutti i tuoi atti fa che scorra la vita nel mio volere divino affinché ti somministi tutto l'occorrente che ci vuole e così il tutto andrà bene e il tuo Gesù starà insieme con te per farti eseguire bene i suoi modelli divini allora questo passaggio è nuovamente fondamentale certamente bisogna capire bene alcune alcune dinamiche alcuni passaggi che sono anche qui molto molto tipici ecco del del mondo chiamiamolo così della divina volontà e ci accendiamo adesso a vederli a vederli insieme no? numero uno Gesù spiega che Adamo fu creato questo ce lo dice anche la Chiesa in termini molto molto chiari come re di tutta la creazione e quindi tutta la creazione non solo però era soggetto al suo dominio ma doveva essere ci dice Gesù riempita dei suoi atti rileggiamo alcuni passaggi come re padrone aveva il diritto a che ciascuna cosa creata subisse la sua azione e fosse investita della sua luce perché ogni sua azione era un sole uno più bello dell'altro quindi lui doveva formare la corona tutta la creazione in che senso? in che modo? ecco noi adesso questa cosa la possiamo comprendere un po' se comprendiamo bene quel a mio avviso unico vero nuovo modo di pregare che Gesù insegna attraverso i giri perché il modo con cui il sole dell'azione di Adamo secondo quanto io comprendo questo insomma siamo tutti quanti sotto studio qual è? è portare la luce il sole che produce un atto compiuto nella divina volontà nobilitando in qualche modo la creazione la corona viene formata tutta quanta la creazione ora che tipo di processo deve accadere per cui questo possa essere possibile qui c'è anche l'esempio che fa Gesù una società quando un tale è un padrone di un terreno che ha il diritto di passeggiare dentro piantare fiori piante fare tutto ciò che vuole allora fondamentalmente in Adamo c'era in maniera perfetta la capacità di riconoscere in ogni ente creato forse anche più piccolo il tiramo di Dio di coglierlo ma di coglierlo proprio nella sua molto meglio di come facciamo noi oggi noi dobbiamo starci a pensare dobbiamo cercare di tirarci fuori qualcosa dobbiamo arrivarci attraverso la fede non è immediatamente evidente una cosa di questo genere anche perché c'è la stragrande maggioranza della gente che campa nel mondo che gode della creazione che si alza una mattina che è illuminata dal sole ma non gli passa neanche per l'anticamere del cervello di dire un grazie a Dio perché? perché non è cosciente di questo Adamo lo era perfettamente e quindi era scatta immediatamente la gratitudine nel cuore gratitudine che Adamo come dire esprimeva in maniera perfettamente cosciente volontaria e amorosa d'accordo? quindi il grazie di ricambio subito e in che senso va a mettere i suoi atti nella creazione? ecco nel senso che va entra attraverso la divina volontà in quel certo ente creato che non ha come lui l'uso dell'intelletto e della volontà e ringrazia in quell'ente creato di averlo creato dell'amore con cui Dio ha compiuto quell'atto di sua volontà che ha dato origine a quella creatura e lo ricambia anche per quella creatura con la potenza del nostro Fiat faceva ciò che voleva si bilocava in tutte le cose create ora quando si ha l'unione stabile con il Fiat Supremo questo avviene diciamo così per antonomasia attraverso questi atti però tutto ciò che la persona fa se parla se ama se adora se opera ha il potere di risonare in tutta la creazione e questa era investita dell'amore dell'adorazione e dell'opera di lui questi effetti sono effetti veri profondi conseguenti al vivere nel Fiat non ne abbiamo a mio avviso perfetta esperienza o perché non lo viviamo ancora bene oppure perché non è essenziale o forse non è possibile ora averne questa diretta esperienza ma così è ora noi dobbiamo pensare che questa cosa bella e perfetta come la poteva vivere Adamo e come l'avremmo vissuta noi questa non ci sta più tutto l'operato di Adamo sarebbe rimasto in tutta la creazione come il primo modello per tutti i suoi discendenti i quali avrebbero modellato tutti i loro atti riflessi di luce degli atti suoi quindi noi questo dobbiamo reimpararlo da zero perché non abbiamo dinanzi a noi un modello come si fa questa cosa io per questo ho sempre raccomandato di farsi aiutare ecco noi abbiamo due grossi input di aiuto che sono il più pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà e anche le ore della passione che vanno però a abbracciare quel ambito ben determinato della divina volontà che è stata l'opera della redenzione però nella creazione noi qui dobbiamo in parte lasciarci guidare e in parte però cominciare a muoverci a operare Gesù conclude questo capitolo dicendo guardate abbiamo tre possibili modelli nella creazione tre il primo modello fu l'ente supremo su cui l'uomo doveva modellare tutti i suoi atti con il suo creatore questo modello è conosciuto in parte noi sappiamo che tutte quante le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui il modello per l'antonomasia è nostro Signore Gesù Cristo il verbo meglio ancora di Dio prima anche che si incarnasse perché già l'incarnazione era un fine della creazione il secondo modello però sarebbe dovuto essere un pochino più proporzionato a noi adamo ma purtroppo questo modello noi non ce l'abbiamo più a meno che qualche cosa ci sta dicendo attraverso questi scritti nostro Signore altrimenti noi per esempio un attimo anche fare fare a mente locale noi possiamo sapere qualcosa di come era la vita di Adamo prima del peccato originale che io sappia grazie agli scritti di Luisa non so perché non sono un somma tuttologo io non ho conosciuto in tutte le cose che ho letto altre fonti da cui attingere questa conoscenza se qualcuno le conoscesse sono ben lieto di poterle accogliere certamente insomma che siano cose autorevoli non che siano cose strane insomma tra le tante cose strane che girano non dimentichiamo mai insomma che Luisa Piccarreta ha già superato la fase diocesana del processo di canonizzazione certamente non è ancora un'averla fatta santa però insomma è una persona che ha quantomeno fama di santità riconosciuta dalla chiesa locale questo significa stare diventati i servi di dio quindi non è l'ultima pseudo mistica o pseudo che gira ha già delle sue credenziali positive ed in effetti qui Gesù dice che il terzo modello chi è? è Luisa perché di lei possiamo conoscere tante cose perché conosciamo la biografia e conosciamo gli scritti e se noi leggiamo con attenzione vedremo quante volte lei era occupata ad andare ma qual è la cosa principale che faceva Luisa qui ritorno insomma Luisa girava dalla mattina alla sera girava attenzione questo è un termine tecnico girava senza essere mai andata in giro come lo intendiamo noi io quando ero giovane dicevo ma esco dove hai in giro io così chi lo sa se non ero come profetico come come Caefa quando disse ammazziamo questo lui intendeva insomma che era meglio che morisse un uomo solo secondo il punto di vista suo e invece ecco la divina volontà permise quella frase per dire un'altra grande verità no lei non andava in giro come mondani ma andava parecchio in giro cosa faceva in continuazione questo produce una montagna di soli andare a prendere tutti gli atti belli della divina volontà nel creato nei misteri della vita di Gesù e io invito anche nei misteri della vita della madonna perché perché noi dobbiamo imparare a conoscere bene torniamo da dove siamo cominciati l'amore di Dio la divina volontà è amore operante questo l'uomo non lo conosce non lo comprende io invece sono convintissimo che se una persona comincia a entrare in questo mondo l'amore di Dio non solo che lo conosce ma lo conosce nella sua autenticità verità cioè non è una frase cioè pensiamo che tutti quelli che ascoltano che ascolteranno queste queste povere parole che un po' lo prete sta sta dicendo no tu chiediti ma tu ti senti amato da Dio sì o no sinceramente sì o no ma attenzione ti sei tu mai messo in condizione di farti amare da Dio lo cerchi con l'amore lo vai a prendere lì dove si trova o no girare significa semplicemente andarlo a cercare e a farlo tuo l'amore di Dio perché un fiore qualunque tipo di fiore è un atto di divina volontà d'accordo è un atto che parla anche se tu non lo capisci magari fossimo in grado di capire tutti quanti ti amo che Dio ci ha lasciato in giro insomma no ecco e quindi questo dobbiamo prenderlo cercarlo perché la grandezza la bellezza l'amore di Dio è qualcosa di assolutamente infinito noi pensiamo a quanto si è come dire indefinitamente moltiplicato e questo dobbiamo andarlo a prendere in continuazione questa è la vita fondamentale cioè io personalmente penso che questa vita nella sua diciamo fase matura compiuta veramente diventa come era la vita della madonna di Gesù un ininterrotto continuo canto di amore canto di amore reciproco cioè c'è Dio che te lo mostra d'accordo perché è lui come dice la saga scrittura che ci ha amato per primo non noi che abbiamo amato lui ma che succede tu accorgendoti realmente di questo cioè non sono delle chiacchiere estrinseche no cioè io so che la gente quando sente dice sento sempre le solite prediche si parla sempre è l'amore di Dio è l'amore di Dio è l'amore di Dio però in un modo come dire freddo spersonalizzato come dire a volte retorico o più ancora insomma che retorico che suona come qualcuno la chiama dispregiativamente aria fritta o cosa trita è ritrita tanto di Dio bisogna dire qualcosa se dici che Dio è l'amore non ti sbagli mai insomma si può sempre dire ma non è così ecco cioè questo deve diventare vita deve diventare carne non diceva ho visto un tweet di proprio Francesco nei giorni scorsi che lo trovo la vita cristiana non è teoria d'accordo vaga è un rapporto personale che tu hai con l'altissimo questo rapporto si modula sulle frequenze dell'amore che io ritengo che tutta la fatica diciamo così principale di instaurazione di ingresso di apprendimento della vita nella divina volontà sia nel lo stare intento in continuazione andare accogliere dappertutto le dichiarazioni di amore di Dio imparare a ricambiarle dalla mattina alla sera questa è importantissima la forma di preghiera sicuramente più alta che esiste sicuro ma pensiamo per esempio una cosa che non molti fanno quei pochi magari che fanno la fanno un po' a pappagallo pensiamo alla preghiera liturgica della chiesa l'erodi i vespri il cosiddetto breviario adesso si chiama liturgia delle ore non fa niente che cosa qual è il contenuto fondamentale di questa forma di preghiera è un canto di roda di ringraziamento al signore certo sono anche i salmi penitenziari sono anche i salmi imprecatori c'è tanta roba ma come dire la quintessenza l'inno l'inno i cantici i salmi sono ecco fedele dell'esortazione di San Paolo cantate a Dio con gioia e con gratitudine salmi inni e cantici spirituali chi è che canta con gioia e con gratitudine chi è contento e non è che uno è contento perché è deficiente uno deve essere contento per forza uno deve essere contento per forza e ora faccio pinta di essere contento no cioè io sono contento perché non posso non essere contento se mi trovo circondato perché noi siamo circondati capite non diamo per scontato queste cose qui perché chi sta ascoltando questa cosa per esempio tu pensa a quanto tempo passi a brontolare o a lamentarti del sacco di cose o a perdere tutte quante le cose a nero o a incupirti o a entristirti o a preoccuparti quanto tempo chiediamo quanto tempo quanto tempo o a vedere cose sempre a nero o a vedere il bicchiere sempre a mezzo vuoto quanto tempo generalmente è tanto tempo e quanto sei felice su tante cose belle che ti ho è proprio un un modus se tu impari questo modo veramente cambia la vita cambia il rapporto che tu c'è con te stesso cambia il rapporto che tu c'è con gli altri perché se tu cominci a imparare a vedere l'infinito bene di cui Dio ti ha circondato e a ricambiarlo poi ti sarai diventare un pochettino attento una volta buona a vedere anche il bene in chi ti sta vicino che cosa dicono i maestri di spirito sapete quando è che una persona si sta convertendo uno delle spie è quando è capace di vedere il bene nell'altro e al tempo stesso di vedere le cose che non funzionano in sé perché il peccatore generalmente vede il male sempre nell'altro e pensa di vedere alcune cose che funzionano in sé perché è superbo ma questa cosa non si è improvvisa questa qui perché questo poi accade nella misura in cui io anche nell'altro non imparo semplicemente a vedere la sua dimensione contingente creaturale perché nella bellezza dell'altro cosa c'è c'è un ti amo di Dio perché l'altro c'è un'anima l'anima l'ha creata nostro signore le cose belle che quella persona c'ha non dipendono come dire da lei in quanto lei ma dipendono da Dio e se quella persona è santa non se le attribuirà mai le cose buone a sé come se fossero cose proprie ma ne renderà lode glorie grazie a Dio perché è sempre lui il primo il centro di tutto io vorrei tanto insomma che il nostro signore mi aiutasse perché quantomeno a esprimere a far comprendere quello che mi sembra di percepire chiaro nel cuore allora entrare in questa dimensione vuol dire veramente realizzare una trasformazione immensa della vita ti diamo presente che nella divina volontà ci dice Luisa il peccato non c'entra il peccato è orrore il peccato è tenebre il peccato è morte cioè non c'ho tempo di andare a fare i peccati se io sto intento ad altro quando santa costina diceva quella famosa frase che poi hanno strumentalizzato per andargli a far dire le più grosse beceraggini che esistano ah ma fa quel che vuoi quella frase lì è profondissima perché se tu realmente stai dentro questo orizzonte di amore ma puoi fare quello che vuoi perché se stai dentro l'amore non ti distaccherai mai dal bene oggettivo mai quindi è impossibile che tu faccia qualcosa di male se ci stai dentro però se ci stai dentro veramente allora concludiamo guardiamo anche l'esperienza di Luisa Luisa ha vissuto delle cose e Gesù l'ha obbligata a scriverle e la gente si scandalizza di alcune cose che trova scritte perché lì insomma lei vive un rapporto di amore profondissimo con Gesù profondissimo cioè modellato a tratti veramente come se fossero due innamorati io ho letto insomma anche delle critiche abbastanza beccele sprezzanti no sulla vicenda di Luisa ma una persona che guarda queste cose non con l'occhio insomma del 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 critico sprezzante appunto dice ma e sa che lei non voleva scriverle queste cose che il nostro Signore l'ha obbligata a scriverle deve chiedersi ma perché gliel'ha fatta scrivere perché tu possa capire come l'orizzonte di Gesù l'orizzonte e la dimensione che vuole vivere con te è solo questa in paradiso si vive di amore vivere nella divina volontà significa attuare quella parte del Padre nostro che dice fiat volontas tua sicuti in cielo e in terra anzi adveniat regnum tu fiat volontas tua sicuti in cielo e in terra cioè venga il tuo regno veramente e la tua volontà sia fatta attenzione qui sulla terra come si fa in cielo quindi occorre entrare in questa dimensione guardate che è difficilissimo tu dici ma non manco ma è difficilissimo ma tutti quanti gli uomini non cercano altro che l'amore non cercano di essere amati se tu gli dici così lo faranno subito ma manco per niente neanche per niente non è facile è un'operazione in cui bisogna stare costantemente intenti io vedo conosco anime che stanno piano piano entrando in quest'ottica capite cioè su questo noi non possiamo né ingannarci né ingannare perché quando una persona è contenta è felice si vede quando una persona invece ostenta una felicità falsa quindi si atteggia perché cioè deve entrare in una parte no perché deve dimostrare qualcosa a qualcuno perché si illusa si vede subito si vede si vede immediatamente subito lo percepiamo allora il terzo modello è Luisa ma che significa che è Luisa tu comincia a qual è una cosa che traspare sempre da da Luisa dove gli istinti un amore folle verso Gesù anche quando dice come le dice gli spropositi che a volte sono spropositi veramente perché uno quando legge ma anche gli spropositi veri insomma che lei li chiama spropositi tutti quanti a volte non sono spropositi perché sono dei bellissimi canti di amore detti a Gesù ma a volte lungi da me andare a cioè qualcuno qualche sproposito sembra ma Gesù li accoglie sempre con gioia anche quando li deve lettificare perché perché sono spropositi d'amore sempre sempre allora ricordiamo sintetizziamo vivere questo quindi girare andare a prendere gli atti di amore di Dio ringraziarli ricambiarli per noi per tutti ma girare anche per esempio negli esseri umani negli altri esseri umani tu vedi qualche cosa di storto se non l'ho detto in tutte le catechesi che ho fatto vedi qualcuno che fa qualcosa di storto non intervenire non riproverare ma non ti direi neanche limitare semplicemente a pregare per la sua conversione mettici un bel ti amo dentro quel cuore benedetto dentro quelle labbra che hanno proferito una bestemmia metticelo d'accordo signore io ci metto il mio ti amo e invoco su quelle labbra la conoscenza e il regno della divina volontà non sono cose che lasciano senza effetti cioè per questo che dico sempre cioè se uno vede il più pellegrinaggio metto il mio ti amo metto il mio ti amo metto il mio ti amo se uno vede le ore della passione metto il mio ti amo metto il mio ti amo che significa che significa significa che la vita nella divina volontà è un come dire è un circuito è una è un è un meccanismo che si mette in moto dove c'è un circolo continuo d'accordo di amore tra il creatore e la creatura continua continua e crescente continua e crescente continua e crescente diventa una gara diventa come quelle che ci narra la la madonna che faceva abitualmente quello altissimo nell'opera Maria il regno della divina volontà il modello primo è l'essere supremo e l'essere supremo che cosa fa? che cos'è l'essere supremo? ciò dice San Giovanni Dio è amore la trinità delle persone divine è proprio come dire la dimostrazione perenne palese del fatto che Dio è amore perché per essere amore Dio non può essere una monade che è stata sola con se stessa non è possibile il fatto che Dio sia trino quindi tre persone ed una sola sostanza unite da che cosa? dall'unico vincolo che sono le relazioni d'origine che sono tutte quante le relazioni ispiranti dall'amore ci dice questo la divina volontà ci dice la teologia tutto quello che Dio vuole in sé fuori di sé è amare amore basta e quindi noi sappiamo che anche adesso nella situazione che c'è anche dietro gli eventi che sembrerebbero c'è sempre un disegno l'amore anche se noi non lo vediamo come c'erano nella crocivissione del figlio ma come? Dio padre voleva che il figlio soffrisse in quel modo barbaro? sì e no ecco sì assolutamente sì per la nostra salvezza no nel senso che se non fosse stato necessario certamente il padre non godeva nel vedere soffrire il figlio ma essendo quello necessario per la nostra salvezza è certo che lo volevo spero di essermi ecco fatto un po' capire fare nostra la potenza del fiat divino vuol dire fare nostra la potenza d'amore che fuoriesce in continuazione dalla Santissima Trinità e ci raggiunge e ci bombarda continuamente da mani a sera e purtroppo ordinariamente dinanzi a questi bombardamenti gli uomini vivono dentro 100 miliardi di trincee ultra blindate che non si accorgono assolutamente di nulla questo per noi non può essere vivere in questo modo fa i cronavità bellissima bellissima e mette veramente al riparo da ogni sconquasso stelle preoccupazioni agitazioni arrabbiature cose di questo genere che diventano brutti ricordi o al limite ogni tanto qualche nuvola che si affaccia prova diciamo così a rispiegare qualche effetto insomma se uno non è proprio fuori di testa facilmente riesce a rimandarla da dove è venuto perché col regno della divina volontà è venuto tempo di occuparsi e di pensare ad altro bene ragazzi amici carissimi ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana alla mia benedizione a tutti mi raccomando una santa festa di tutti i santi a tutti ricordando nel giorno dei santi che i santi sono tanti e sono tutti quanti belli ma la santità delle santità è la santità più sublime e la santità del vivere nel divino volere la mia benedizione a tutti Ave Maria Grazie